Ciao, oggi faremo un gioco bellissimo, ma salutiamo prima la Sabri! Sarò una capanna perfetta! Allora, vedete che Joy, visto che qualcuno ce lo chiederà e ce lo chiede già, ha il braccio ingessato, non vi preoccupate, non è successo nulla di grave, è caduta. Guarirà presto, vero Joy? Ok. Allora, guarda, vi siete messe vicine per maglietta! Ma che bella è questa maglietta! Che bella è questa maglietta! È bellissima! Ok, ok. Perfetto, allora, spieghiamo com'è il gioco, vi dovete mettere a coppie, una sarà la capanna e una sarà l'indiano, quindi decidete. Tutte e due dovrete correre. L'indiano, nella capanna. Ok, ci siamo? Dai, mettetevi a coppia e fate un cerchio grande. Quindi, Irene è con Camilla. La Letizia è con la Emma. La Martina è con la Joy, la Sabri è con la Giadi, la Debo, che sbadiglia, è con la Miki, la Emma è con la Erika, Rosa è con Martina. Perfetto, allora, posizione da capanne. Brave! L'indiano, posizione da indiano, benissimo. Al mio via, dovete correre, le capanne corrono, fanno un giro intorno alla compagna e si rimettono in posizione. Gli indiani fanno un giro, passano sotto alla compagna e si rimettono in posizione. Gli ultimi che arrivano, purtroppo, sono eliminati. Vediamo chi è la coppia di indiano con la sua capanna più forte. Pronte? Capanne! 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 Giudice, per me è Joy. Joy con Martina. Ciao! Ok, un pochino, dai. Un pochino. Pronte? Indiani! Ciao, bello! Mi dispiace, avete perso. Mi dispiace, avete perso. Indiani! Irene! Irene! Irene e Camilla, ciao! Capanne! rosa il gioco il gioco si fa veramente veramente difficile secondo me siete troppo strette Marti attenta a quelli che tranciano i diari va bene rifacciamo capanne scusami scusami Emma Fadda ma puoi tranciare la Erika? cioè non è che devi corrergli sopra chi è che ha vinto? cioè chi è che ha perso secondo voi? non lo sappiamo anche lei ha rubato per me già secondo me secondo te Giada? secondo me invece la Fadda e la Leti perché la Fadda non è neanche finito il giro è rimasta di così mi dispiace mi dispiace attenzione Laila ti conviene spostarti amore bravissima bravissima indiani la capanna più veloce e l'indiano più veloce sono Deborah e Nicole allora dai facciamola ancora una volta facciamo ancora una volta ciao Roberta è arrivata la Roberta è arrivata la Eva mettetevi anche voi dai abbiamo una capanna un indiano nuovo pronte? dai pronte? ragazze ragazze pronte lo spiego io Roberta no Roberta lo spiego io Roberta non puoi star giù perché non riesci a passare sotto la Eva quindi tu capanna brava Eva indiano Eva passa sotto gira e ritorna in posizione tu giri giri intorno alla Eva e ti rimetti in posizione cosa vuol dire? io non ce la faccio e no devi metterti anche te è giusta dai ok tira le punte Giada vai sulle punte noi da che partiamo a girare e ci siamo? indiani mi dispiace ciao siete eliminate pronte? capanne secondo voi? Joy ciao Joy e Martina sempre le stesse copie di prima ok avvicinatevi un pochino pronte? indiani Martina Rosa Eva 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 ciao Laila amore indiani no stop 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 ragazzi ok rifacciamo perché gli indiani devono uscire dalla capanna non possono uscire con la capanna chiaro? ok ci siamo capanne ma come non vale ciao ma lei fa parte della palestra ciao indiani indiani ti dispiace ciao capanne Martina ma siete anche voi finale come l'altra volta oh mamma siete pronte ma ragazze dovete stare lontane non è che dovete uscire e portarvi via la capanna sì sempre loro capanne secondo me hanno perso loro ok rifacciamo la sabri dice che bisogna rifarla siete pronte concentratevi e non toccatevi cioè non andate via dosso pronte via indiani indiani mi dispiace vincono ancora Micole e Deborah bravissime le campionesse di capanne indiani siete voi speriamo che il video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like ciao 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 sabri a presto la capanna ma siete state eliminate subito per forza da 70 centimetri di gambe ma tu sei da due chilometri ciao ciao